Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video che riguarda la campagna 4 che inizierà il 27 aprile e terminerà il 17 maggio. Io mi presento, per chi non mi conosce, sono Barbie Mare. Allora, Avon ci omaggia di questa meraviglia sulla copertina Stefano De Martino, che ci consiglia la nuova fragranza da uomo For Victory. Eccola qui, andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Wow, eccolo qui, sempre più bello lui. Allora, sono un 75 ml di confezione, 14,95 euro, quindi questa è la grandissima novità da uomo di Avon su questa campagna. Se acquistiamo una fragranza, possiamo avere questo bellissimo orologio da uomo a 6,95 euro. E riguardo questa fragranza, come vedete, c'è anche il detergente corpo e capelli a 1,95 euro. Guardate qua, è bellissimo. Andiamo avanti, non mi distraggo. E qui abbiamo Ev o Yves, non so come si pronunci, Elegance, questa è la novità, Ev Confidence. Anche qui abbiamo l'offerta sull'orologio da donna a 6,95 euro, se acquistiamo uno di questi profumi. Eccolo qui, qui si vede meglio. È veramente bello, bello davvero. Poi, andiamo avanti. Per ogni prodotto acquistato da pagina 12, quindi da questa pagina, potrai avere il set Lux, un correttore più un fondotinta a 8,95, quindi il prezzo è veramente buono. E qui ci sono le varie fragranze da donna, il pari whey, queste altre fragranze che conosciamo e che bene o male ci piacciono, o tutte o quasi tutte. Uh, scusatemi. Ancora abbiamo la possibilità di questo set. Ecco qui tutte le varie fragranze da donna, questo è buonissimo, 11,95 euro, 50 ml, mi piace molto. Una marea di deodoranti da uomo e da donna che vengono 2,95 euro, tranne i due talchi che vengono 2,50 euro, soft mask e fare whey classico. Qui abbiamo queste tre fragranze da 30 ml a 5,95 euro, qui finisce, no non finisce, continua, scusatemi. Poi qui abbiamo offerta di benvenuto, prova uno di questi trattamenti a partire da 3,95, quindi quello che viene 3,95 è questo. Poi abbiamo 4,50 e 4,50. Sempre il set da poter avere e basta, e finisce qua l'offerta del set. Poi, capelli grassi secchi con forfora, abbiamo lo shampoo che fa per te, 3,95 euro l'uno, ok. No, scusate, io vi ho detto che il set finisce, ma non finisce niente, scusatemi eh. Ancora c'è, ancora c'è, qua abbiamo le varie spazzole, questa è la novità, la spazzola lisciante con le sedole naturali. E bagno schiuma, 4,95 euro un litro, mentre mi sembra che adesso io l'ho preso a 4,99 euro al litro. Sì, sì, nello spacchettamento che vi farò vedere domani. Poi qui abbiamo queste erozioni per il corpo, queste grandi a 5,50 da 750 ml, mentre queste qua da 400 ml, 3,95 euro. I prodotti per i piedi, che sono veramente ottimi e profumatissimi, magari li avete già provati. Poi qui abbiamo i rossetti color trend, 2,95 euro, ci sono nuove tonalità. La BB cream della color trend, a 3,95 euro, il correttore 1,95 euro, sono dei prezzi veramente ottimi. Qui come offerta esclusiva di campagna abbiamo il caricatore solare a 12,95 euro, si può anche appendere perché c'è il gancio in silicone, ed è ottimo perché comunque è un caricatore solare, quindi che va a ricaricarsi con la luce solare. Questo è un set del valore di 75 euro, ma che Avon ce lo fa avere a 19,95 euro. Vediamo cosa abbiamo all'interno. Allora, all'interno abbiamo il mascara Big e Multi Peeled, si, nero, il Gloss Labbra, Prampit, della Mark, lo smalto Gel Shine, Mark, Rose Saured, il Top Coat Gel, Shine, l'eyeliner con lo sfumino a lunga tenuta, il Boldest Black, l'ombretto in crema a lunga tenuta, Mark, e Forever Bronze e Cipria Perfezionante Magic HD Mark. Scusatemi se vi ho letto male, ma ce l'ho scritto qui e io sono da questa parte, e sicuramente vi ho letto male. Comunque, tutti i prodotti all'interno di questo set sono questi. Qui abbiamo la mini palette ombretto, questa è una novità, sono quattro colorazioni a 9,50 euro. Questi ombretti si possono usare sia asciutti che bagnati. Bagnati nel senso che spruzziamo con uno spruzzino un po' di acqua sul pennellino e andiamo poi a prelevare il prodotto e quando praticamente lo indossiamo notiamo che il colore esce più intenso, più metallizzato. Provate, io avevo questi ombretti che si potevano usare anche da bagnati di un'altra marca e veramente il colore cambia nel senso che viene bello, veramente bello. Se ne avete voglia prendetele, provatele e poi magari mi fate sapere. E qui parliamo di sopracciglia, questa è la novità della matita modellante per sopracciglia con questa punta così rettangolare, diciamo, ecco, rotonda, 4,95 euro. Questa è la pinzetta con il pettinino 4,50 euro. E qui poi abbiamo ancora make-up per le sopracciglia, il pennello doppio estremità, sempre per sopracciglia. Questo qui io ve l'ho fatto vedere nello spacchettamento di Campagna 1, però non l'ho ancora usato. È praticamente un aggeggino in silicone che aiuta a fare la codina dell'eyeliner in modo perfetto e poi a capire bene qual è la zona che deve essere colorata dall'ombretto. Però io non l'ho usato, quindi non so dirvi. Questo è un set per le sopracciglia, 10,20 euro, con le varie forme che io ho acquistato al Cosmoprof. Ovviamente non di Avon, è di un'altra marca e ve l'ho fatto vedere nel video del Cosmoprof. Qui abbiamo Avon True, per ogni prodotto acquistato da pagina 50, quindi da questa pagina, potrei avere una formula luminosa per il viso, Mark, a 3,95 euro, che è questa da 30 ml. Quindi qui abbiamo il blush dell'Avon True. E qui vari prodottini make-up, Mark. Anche qui ancora Mark. Cioè, guardate, questo qua viene 9,95 euro. Se la prendiamo nel set, quant'era quel set dove c'era all'interno quello lì? Quella città lì, mi sembra. È 19,95, con 10 euro in più, però guardate, abbiamo tutte queste altre cose. Vabbè, era una mia cosa, un mio pensiero. Fondo tinta in mousse, 7,95 euro, questo è contro le zone lucide. Ancora possiamo avere questi illuminanti a 3,95 euro. Le varie perle, qui Avon True, qui passiamo di nuovo agli occhi. Labbra, questi qua, guardate, il rossetto Pamplit Mark, 5,95. Mascara, la lozione struccante idratante a 4,50 euro. Questo ombretto con quattro tonalità dell'Avon True, io l'ho preso, ho preso questo tempo fa, mocia latte. Ultimamente lo sto usando, mi piace moltissimo. 8,95 euro, mi piace perché è numerato, 1, 2, 3, 4, quindi inizio dall'1, finisco nel 4, dietro, nella parte dietro della scatola, fa vedere anche i punti dove vanno messi, le varie numerazioni, quindi i vari colori. Bello, mi piace. Unghie, solvente per le unghie senza acetone. Questo qua è buonissimo, io l'ho acquistato, mi piace pure molto il colore, però il colore che ho io è questo, è Chantement, 2,95 euro. Questo è lo smalto con il primer rincorporato. È veramente buono. Qua abbiamo i prodotti della Luxe e New, come vedete. Poi andiamo alla Color Trend, il prezzo migliore dell'anno, i mascara colorati a 2,95 euro. Ancora Color Trend, lo sapete che i prezzi della Color Trend sono bassissimi e i prodotti non sono per niente male, secondo me. Vabbè, l'emolliente non mi piace, vabbè, comunque magari non piace a me, agli altri magari piace, ci mancherebbe. Lo smaltino della Color Trend è 2,50 euro, abbiamo il rossetto Avontru a 6,95 euro, poi questo e questi e non sono in offerta. E iniziamo con l'abbigliamento. Questa è una novità, il vestito tuta a 24,95 euro, questo a borsa a 17,95 euro, rinnovo il guardaroba per l'estate e il vestito, questo qui che può essere indossato in vari modi, a 24,95 euro. Qui abbiamo ancora novità, il top reversibile, fiorato oppure tinta unita, i jeggings e pinocchietto, costume da bagno che può essere usato tipo connellina oppure questo lo alziamo e ce l'annodiamo in vita, come fa a vedere qua, 26,95, un bel colore pure. Poi abbiamo la maglia, questa come novità, i jeggings e queste sono delle scarpe espadrillas che vengono 17,95 euro, sempre come novità. Poi, maglioncini, i jeggings, questa borsa viene 34,95 euro, un po' più cara rispetto alle altre, però evidentemente è strutturata meglio. Leva la sciarpa, cioè tunica, revertibile, novità, sciarpa e borsa che si possono abbinare tranquillamente. Questa sciarpa mi piace molto, quanto viene? Vediamo, sciarpa d'anello, 7,95 euro, me la potrei prendere ma non sono sicura. Questa borsa, 14,95 euro, sempre una novità, altre novità, questo è bellissimo, io ce l'ho, è una borsa organizer che va messa all'interno delle borse per avere tutte le nostre cose in ordine, morbida, leggera, bellissimo, questo è un organizer bellissimo. Ballerine molto carine, scarpe novità con glitter. Questi occhiali come novità, questo è il contenitore, sandali, borsa, bijoux, ci sono tantissimi bijoux come novità e sono anche veramente belli. Questo è un set da 14 orecchini a 7,95 euro, questi sono dei bracciali a 4,95 euro dove c'è stampato il simbolo dei 12 segni zodiacali. Ancora bijoux, un altro orologio, novità, tantissimi orologi su questa campagna, ancora bijoux, i collarini, questi possono essere, penso, usati anche da soli, questo è un set di 3 a 5,95, un set di 4 a 7,95, sì, da indossare insieme o separati, perfetto. Quante farfalle, quante farfalle carine, braccialetti, bello, ma cose veramente belle. Mi è piaciuto tanto questo set di anelli, ce ne sono 3, giallo, turchese, fucsia, 6,95, possono essere anche indossati, cioè singolarmente, ecco, separati. Orologio Aneta, 16,95 euro, poi qui Avon ha abbinato una fragranza all'intimo, a questo intimo qui meraviglioso, nuovo, ha abbinato il Pure Blanca Blush, 10,50 euro, 50 ml, mentre quest'altro completino intimo, ha abbinato il Luck, ancora intimo, pigiami, reggiseni, qua ci sono i vari reggiseni di Avon, che io ho già preso e che mi sono tantissimo piaciuti, ancora intimo, Kitchen Magic, questa è la grattugia MX, questo è un contenitore dove ci sono set, è un set di sette contenitori, 5,95 euro, possono essere lavati anche i lavastoviglie, questo è un completo letto, i vari portabili, il portacappotto, questo è il braccialettino del nastrino della solidarietà, a 6,95 euro, e poi qui abbiamo degli sconti, ultima opportunità di acquisto, fino al 60% di sconto, questo ve l'ho fatto vedere nell'ultimo spacchettamento di Campagna 1, quindi sapete già com'è, meraviglioso, vabbè ve lo consiglio, ancora altre cose belle, Planet Spa, novità, maschera purificante e suole anche per il viso, prodotti per i bimbi, profumatissimi, vari prodotti dell'Avon Naturals, e poi qui acquista un prodotto e avrà il secondo con il 50% di sconto, a partire da questa pagina 130, il secondo lo acquistiamo poi con il 50% di sconto, Avon True, ancora Avon True, Avon True, quindi varie creme, questo è buonissimo, l'olio per il viso Nutra Effect, veramente buono, insieme è meglio, per ogni crema da giorno acquistata, possiamo avere una crema da notte a 6,95€, quindi un bellissimo duo, qui prezzi prova fino al 45% di sconto, qui prezzi prova fino al 55% di sconto, questa è una grandissima novità di Avon, che è praticamente una crema trattante, che va usata dai 40 anni ai 60 anni, e praticamente come vedete è numerata, c'è questa parte 1 e questa parte 2, allora si inizia con l'1, con questa parte qui, perché vedete che c'è due erogatori, quindi si inizia con la numero 1, si usa questa crema per una settimana, dopo la settimana si prende la numero 2 e continuiamo la seconda settimana con la numero 2, poi quando finisce la seconda settimana ed inizia la terza, riprendiamo la 1 e così via, quindi si usa a settimane alterne, però non so com'è, perché ero tentata ma non l'ho acquistata, Enew, prezzi prova anche qui fino al 60% di sconto, qui fino al 50% di sconto, Enew Clinical, perché non provare 16,95€, cosa? Ah, il Fareway Infinity, da quanto? Da 50 penso, sì, la lozione per il corpo insieme alla scatolina, 16,95€, e vari profumini, cosa dice qua? Per ogni fragranza acquistata potrei avere un prodotto complementare a scelta, da pagina 150 e 151 a 1€, ah carino, altri profumini, e la Bonplus riguarda 3 soft mask a 19,95€, ognuno da 50 ml, poi qua abbiamo 1 a 3,95€, 2 a 6,50€, vari detergenti corpo e capelli, da uomo, e lozione per il corpo, da donna, poi questi due, 15,95€, questi due, 16,95€, qui 14,95€ è l'uno, 14,95€ è l'uno, questa è una novità per uomo, bellezza per lui, quindi quelli sono i vari prodotti uomo, questa è una novità, è una spazzolina per il pedicure, della Foodworks, 3 al prezzo di 2, 3 a 9€, quindi ottimi, perché sono 400 ml questi boccettoni qui, e poi qui abbiamo on duty a 1,99€, le varie lozioni anticellulite, rassodanti, 1 a 2,95€, 2 a 4,50€, 1 a 5,50€, 2 a 8,50€, novità, shampoo antirottura, shampoo antirottura, 250 ml 2,95€, 400 ml 3,95€, il trattamento senza risciacquo da 100 ml, 5,50€, Solari, 2 a 13,90€, 2 a 9,90€, Avunker, 2 a soli 3€ da scegliere su queste due pagine, 2 a soli 5,50€ su questa pagina, e su questa 2 a 4€, novità, pediluvio, esfoliante, spray rinfrescante per i piedi, 2 a soli 5€ da scegliere su questa pagina, e su questa pagina, quindi le varie novità, 2 a 5,90€ su entrambe le pagine, potete scegliere, fai il pieno tanti prodotti per il tuo benessere a 1,95€, ecco, ora qua, dobbiamo far così, allora, febbre matte, un rossetto matte, venduto ogni secondo, tinta labbro rossetto, 2 a 10,90€, ecco qua, intanto numero 1, per labbra definite, 3,95€, la matita glimmersic, e poi qui, guardate, 2 a 10,90€, ci sono anche delle varie tonalità, nuove, eccolo qui, che vedete tutto, guardate che meraviglia, questi rossetti perfect matte, dell'Avon True, e poi qui abbiamo, il pennarello tinta labbra, la matita per labbra, qui abbiamo le varie matite contorno occhi, della glimmersic, cioè la glimmersic, occhi di nuovo, questo è il nuovo mascara di Avon, a 5,50€, waterproof, che però io non ho acquistato, quindi non so come sia, fondotinta, blush, perle, i vari pennelli, i vari attrezzi, che ci servono per truccarci, e stop, ed eccoci qua, il catalogo è finito, se vi è piaciuto il video, fatemelo, e il catalogo pure, fatemelo sapere, con un bel like, e iscrivetevi al canale, per aiutarmi a crescere, perché mi fa molto piacere, in più vi aspetto anche su Instagram, Barbie Mare YouTube, tutto minuscolo, tutto attaccato, e vi aspetto anche sulla mia pagina Facebook, dove mi chiamo come qui, Barbie Mare, ragazze, io se ce la faccio adesso, vi faccio il video sul supplemento, altrimenti, abbiate pazienza, ve lo manderò poi, sempre oggi, però nel pomeriggio, io vi ringrazio per tutto l'affetto che mi date, tantissime di voi che mi seguono su Facebook, su Instagram, mi scrivono anche da privato, anche solo per darmi il buongiorno, e io vi ringrazio tanto, perché siete tutte, tutte, veramente fantastiche, io non mi aspettavo di conoscere delle persone così eccezionali come voi, quindi vi ringrazio tantissimo di cuore, vi auguro una buonissima giornata, per qualsiasi informazione scrivetemi che io appena posso vi rispondo, grazie e un bacio.